Anche nel nostro presidio ospedaliero di Sciacca ci stiamo preparando per affrontare l'emergenza sanitaria Covid-19. La nostra terapia intensiva è pronta, ma abbiamo bisogno anche del vostro aiuto. Sosteniamo l'associazione Ollus Orazio Capurro per l'acquisto di ulteriori attrezzature sanitarie. Effetto anche tu una donazione partecipando alla raccolta fondi sulla pagina di Facebook. Tutti insieme ce la faremo! Tutti insieme ce la faremo! Sostieni anche tu l'iniziativa per aiutare l'ospedale di Sciacca. Tutti insieme ce la faremo! Sostieni anche tu l'iniziativa per aiutare l'ospedale di Sciacca. Tutti insieme ce la faremo! Effetto anche tu una donazione sulla pagina Facebook dell'associazione. Io l'ho fatto. Tutti insieme ce la faremo! Anch'io l'ho fatto, fallo anche tu, insieme ce la faremo Anche noi l'abbiamo fatto, fallo anche tu, tutti insieme ce la faremo Effettua anche tu una donazione sulla pagina Facebook dell'associazione Orazio Capurro Amore per la vita ONUS Tutti insieme ce la faremo